Ciao, sono Sib, forse meglio conosciuto come Siberian89, e questa volta puniremo i nostri avversari per voler giocare, oppure lasceremo a loro il controllo dei loro destini con Mojis, Dio del Massacro, come nostro comandante. Prima di iniziare devo ringraziare Daniele e Ita per aver consigliato questa leggenda. Grazie mille Dani, questo video c'è grazie a te. Mojis, Dio del Massacro, è una creatura incantesimo leggendaria Dio75 da due mana generici, uno nero e uno rosso, del ciclo delle divinità bicolor di Figli degli Dei. Ha quindi indistruttibile, non è una creatura a meno che la nostra devozione al rosso e al nero non sia almeno 7, e, punto che ci interessa di più per montare qualcosa a tema, all'inizio di ogni mantenimento di un avversario Mojis infliggerà due danni a quel giocatore, a meno che non sacrifichi una creatura. L'idea geniale è quindi pensare all'effetto di Mojis come una tassa, che da un lato ci aiuta ad abbassare i punti vita dei nostri avversari, e dall'altro ci aiuta a controllare la partita. Da qui quindi la prima proposta, Mojis al comando di un mazzo, Rakdos Burn and Taxis. Partendo dagli effetti di tassa, questi varieranno sicuramente in base al tuo gruppo di gioco per quello che vorrai cercare di fermare con più efficienza. Credo che comunque sia una buona idea tassare le pescate con effetti come Sogni del Mondo Sotterraneo, i Mana Rock con Arraffatore di Tesori, turni extra e soprattutto Tutori con Strangolamento, e più in generale il lancio di magie con Dilemma Doloroso. O magari tassare più cose possibili con carte come Mentore, se è vero. Dopo aver rallentato, indebolito, ferito e probabilmente sorpreso i nostri avversari, possiamo quindi usare i fenomenali poteri del Burn per trasformarli in cenere. Vortice sul Furio è l'esempio di ciò che fa al caso nostro, impedendo ai giocatori di recuperare punti vita mentre infligge costantemente danni. Una grande idea può essere anche aumentare i danni che Mojis e gli effetti delle nostre carte rosse infliggeranno, ed Ettami degli Dei Gemelli non potrebbe essere più iconico. Non è un caso che molte delle nostre carte siano incantesimi, ma soprattutto permanenti, perché questo ci aiuta ad animare Mojis, che resta un asset 5 indistruttibile, e a sfruttare Fanatico di Mojis per la devozione al rosso e Mercante Grigio di Asfodelo per la devozione al nero. Di molto interessanti ci sono anche Festival della Devastazione e Idezugo lo spietato, pronti a dimezzare i punti vita di tutti, ma magari stando attenti a non avere in gioco effetti che ne raddoppiano i danni, se dovessimo finirci in mezzo anche noi. Ma ti ho parlato anche di lasciar scegliere i nostri avversari la loro morte, giusto? Questo perché in fin dei conti Mojis offre una scelta, e ho trovato divertente costruirci attorno a un mazzo basandomi su questo tema. Ecco quindi che Punto di Rottura, Tiraneggiare e Tyrant Choice trovano improvvisamente posto tra le nostre 99 carte, tra cui, restando in tema, possiamo spaziare tra effetti singolari come Cavernaristica o Estorsione Temporale, fino ad arrivare a effetti solidi come Torturatore Indulgente o Pungolatore di Peccati. Di carte con effetti dal genere ce ne sono davvero varie, e costruire qualcosa che possa piacerti è un lavoro davvero molto personale. Con la lista in descrizione ho cercato di dare una forma che mi sembrasse abbastanza sensata, ma per forza di cose ho comunque dovuto tagliare fuori qualcosa che potrebbe invece piacerti, come Counter nel Mono Nero per esempio. Quello che invece non ho mai tagliato è stato un bel pacco di rimozioni mirate e di massa, di cui voglio evidenziare Tempesta Mortale perché la trovo quanto mai azzeccata per questo comandante. L'interessante commogis ci sarebbe anche Jokulops e Obliterare, pronti a fare piazza pulita di quasi qualsiasi carta, lasciandoci con un dio che spara shock ad ogni mantenimento. Per finire voglio proporti anche una combo che, per me, è perfettamente in tema commogis, ossia ascensione del capo sanguinario e trivellamente. Con il nostro comandante pronto a mettere segnalini ricerca su ascensione ed attivare trivellamente, non dovrebbe essere difficile arrivare a una situazione in cui nessun grimorio sia più al sicuro. Ti ricordo che, come al solito, queste sono idee e spunti da cui partire e che in descrizione puoi trovare due liste d'esempio basate su queste. Non vogliono essere affatto liste definitive e ogni modifica contribuisce a rendere il tuo mazzo veramente tuo. Siamo quindi giunti alla fine del video e devo ringraziare Daniele Leita per averla consigliata, Domenico Aceto e Angelo Tricase per la loro consulenza e te che stai guardando questa deck tech. Sai come funziona? Quindi non ti ripeterò le solite cose, ma fammi sapere se il video ti è piaciuto e quali comandanti vorresti vedere. Questo era Mogis, dio del massacro, io sono Sib e ci rivedremo ad un prossimo video. Ciao!